Buongiorno a tutti, è un piacere essere in diretta streaming qui oggi dal Consiglio regionale del Veneto. Abbiamo il piacere di avere numerosi ospiti in sala, che saluto e ringrazio di essere qui presenti oggi e grazie a voi che ci seguite. Oggi presentiamo un docufilm molto importante e che ha un importante ruolo e veste storica, perché il docufilm è dedicato a una veronese, una veneta nata a Castelletto di Brenzone, Santa Maria Domenica Mantovani. Questa suora che ha fatto tanto del bene nel territorio veronese viene ricordata grazie al regista veronese Mauro Vittorio Quattrina, nell'attività che ha saputo fare in vita e presso la congregazione delle piccole suore della Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone. Saluto gli ospiti a cui chiedo di avvicinarsi, abbiamo qui con noi Davide Benedetti, sindaco del comune di Brenzone sul Garda, Manuel Scalzotto, presidente della provincia di Verona. Davide, do a te la parola per un saluto. Grazie, buongiorno a tutti e ringrazio anch'io per questa ospitalità prestigiosa. Per il comune di Brenzone è un onore essere qui oggi, perché abbiamo avuto la possibilità appunto il mese scorso di celebrare non solo come comunità quindi di Brenzone sul Garda, ma anche come comunità allargata, appunto la santità di Madre Maria. Una persona semplice che però può essere un esempio anche e soprattutto per questi giorni che stiamo vivendo. Perché siamo abituati appunto ad avere immagini di santi che hanno realizzato cose straordinarie, però noi possiamo dire che nella semplicità, nella quotidianità, ciascuno di noi può veramente realizzare qualcosa di straordinario. Quindi questa figura è un onore per la comunità che oggi posso rappresentare. È un comune, 2.500 abitanti sul lago di Garda che può annoverare appunto Madre Maria Santa nell'ultimo mese e anche il fondatore dell'istituto, il Beato Giuseppe Nascimbeni, che appunto possono essere identità, tradizione locale, ma che sicuramente può dare esempio anche ad altre comunità vicine a noi. Quindi sicuramente questo docufilm è molto importante, noi abbiamo dato il nostro prattocinio ovviamente come comuni di Brenzone, ma speriamo che questa vita, questi esempi possono essere colti anche da altre persone e rendere visibilità anche al nostro comune. Quindi grazie ancora. Bene. Manuel, un saluto anche da parte tua, il Presidente della Provincia di Verona. È un grande piacere innanzitutto portare il mio saluto personale e quello di tutto il Consiglio provinciale a tutti voi che ci state guardando da casa e naturalmente i presenti. E la prima cosa è il ringraziamento, ringraziamento al Consigliere regionale Sponda e a tutto il Consiglio della Regione del Veneto per il patrocinio a questa iniziativa. È un'iniziativa che va a portare a conoscenza un fatto che per me è rilevante. La Santa ha sempre vissuto, ha sempre riseduta nel suo paese nativo, a Castelletto di Brenzone, un piccolo giardinetto graziosissimo sul lago di Garda e da lì è riuscita a portare, oggi se fosse un elemento economico diremmo ad esportare la carità in tutto il mondo con la sua opera. E quindi noi come provincia ne godiamo e siamo ben presenti e contenti per partecipare all'iniziativa di questo elemento di memoria e direi di diffusione della Santa. Grazie. Grazie a voi. Torniamo appunto al dunque dicendo appunto che Santa Maria Mantovani è stata cofondatrice della congregazione delle piccole suore della Sacra Famiglia di Castelletto di Brenzone. Cofondatrice ma non solo perché è stata la prima suora superiore. Ecco, cosa dire, cosa è importante ricordare di questo docufilm? Il docufilm è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cattolica Assicurazioni, dopo chiameremo il segretario generale. La produzione è stata curata da Il Volo di Mauro Quattrina che intanto chiedo di avvicinarsi e chiaramente hanno patrocinato come è stato ricordato poco fa il docufilm la provincia di Verona, il comune di Brenzone e chiaramente il consiglio regionale del Veneto. Passo la parola a Mauro Vittorio Quattrina per un saluto. Grazie. Buongiorno. Fare un documentario su questa donna semplice e umile è un impegno veramente importante. Perché? Perché stiamo parlando non di un santo, ho fatto santo adesso, ma già all'epoca conosciuto come poteva essere San Francesco o altri, una donna semplice, semplice. Infatti il documentario si chiama semplice. È una persona umile di una cultura non elevata, inizialmente se la sviluppo un pochettino dopo, che viene da una famiglia contadina, nasce nella seconda metà degli anni 60 dell'Ottocento, muore nel 1934. Cos'è che mi ha colpito di questa donna? Io uso spesso la parola donna e non suora o sorella, donna, perché era una donna. Insomma, valutare queste donne che nel piccolo hanno fatto grandissime cose. Mi ha colpito l'estrema umiltà anche nei suoi pensieri. Dice, come ci sarà anche nel trailer, se vuoi farti grande e vivi da piccola, se non erano una frase a questo concetto. Ma lei da questo piccolo nucleo, diciamo proprio familiare, è riuscita a creare cose che si sviluppano anche dopo la sua morte in tantissimi stati, anche l'estero, sto parlando del Brasile piuttosto che del Togo, l'Argentina e anche in Albania. Noi siamo stati poco, anzi saluto le sorelle dell'Albania che mi hanno detto che ci stanno guardando, perché portano avanti questo messaggio di aiuto verso gli altri, di umiltà, di povertà, anche in paesi che riteniamo moderni come oggi, ma che vivono un po' in una povertà assoluta. Loro lavorano lì, come poteva lavorare Madre Maria. Madre Maria è un personaggio che a me piace ricordare in alcune cose che ho letto, che giocava con i bambini e quindi a volte Monsignor Nascimbeni l'andava a chiamare perché dice dai, spetti, oppure un'altra sorella sua c'è da far qualcosa, non giocare più. Lei amava i bambini, aveva sempre le caramelle in tasca. Da qui vediamo una persona estremamente semplice, ci sono delle cose anche carine, cioè le piaceva passare in cucina e prendere sul sugo col pane. Questo fa di una persona non una smitizzazione del santo, ma un mito verso il santo, perché più sei semplice più santo sei. E quindi ecco il documentario semplice, che è proprio il titolo dedicato a lei. È un documentario che durerà un'ora e mezza, con alcune scene di fiction che non possiamo far vedere adesso, ma è semplice anche lui. Vogliamo narrare una storia semplice, che sia ad esempio per tutti quelli che guardano, perché attenzione, poi concludo, qui non è una storia, diciamo, ecclesiale di per se stesso che vuole parlare della Chiesa. No, poteva essere anche una qualsiasi altra persona. Sono le opere che ha fatto, indipendentemente che fosse stata una sorella o no. Sono le opere che è riuscita a portare avanti e che le consorelle oggi riescono a portare avanti. Ecco perché a me piace questa persona, perché dal niente è riuscita a far tanto. Quindi tutti noi, se abbiamo dei talenti o abbiamo anche una grande volontà, possiamo fare grande cose per gli altri. Oggi è una moda un po' andata di traverso, di fare le cose per gli altri. Quindi possiamo fare le cose per gli altri anche rimanendo a casa nostra. Grazie. Grazie, grazie. E allora adesso ricordiamo, cerchiamo di ricordare questa figura di questa donna, di questa veronese che ha saputo con poco guidare un istituto di suore che si trova Castelletto di Brenzone, l'abbiamo appena detto. E allora io inviterei suore Simona ad avvicinarsi qui sul microfono per avere uno spaccato un pochino e un ricordo di quello del bene che ha fatto quotidianamente suore Maria Domenica nella sua attività di superiore generale dell'istituto. Grazie. Io ringrazio della possibilità. Per noi è un'emozione, perché si può ben immaginare che non è abituale per noi trovarsi in una sala stampa del Consiglio regionale del Veneto. Però è anche una gioia contemporaneamente, perché siamo qui non a parlare di noi, ma siamo qui a parlare di Dio che si manifesta nella piccolezza e nella povertà nostra. Come è stato detto già più volte, Madre Maria è stata una donna semplice, umile, una paesana. Tanti di noi credo potrebbero veramente sentirsi la sorella. Non si è spostata mai dal suo lago di Garda, se non per pochissime occasioni anche molto brevi. Però ha avuto un segreto e grazie al docufilm semplice può diventare un segreto che diventa di tutti noi. Per essere santi, quindi per godere per sempre dell'amicizia di Dio e della sua visione, non occorre fare cose grandi, cose straordinarie, di cui tutti potranno scrivere sui libri. Basta vivere bene, dando pienezza di senso e di significato quelle situazioni, quelle azioni che quotidianamente tutti noi viviamo. Penso che questo sia il segreto di Madre Maria, la sua grandezza. Lei era pienamente consapevole di essere una figlia amata a dismisura da Dio, sia quando nel suo ruolo di superiore generale incontrava vescovi, cardinali, personalità, così come quando andava nell'orto o come ricordato andava in cucina. Non c'è differenza di azioni e di ruoli. La cosa più importante per lei, come dovrebbe essere per ciascuno di noi, essere figlia di Dio. E la sua felicità era questa, la sua gioia era questa. E così come la gioia più grande era quella di prendersi cura degli altri, che poteva essere dalle consorelle ai poveri che giravano per casa madre, che arrivavano in casa madre, e così poi pian piano delle persone che attraverso le suore, le piccole suore della Sacra Famiglia, lei ha potuto curare. Prendersi cura che è una azione tipica e sola di Dio. È lui che si fa prossimo, è lui che si fa vicino a ciascuno dei suoi figli, a ciascun uomo, a ciascuna donna. E Madre Maria ha voluto semplicemente, come si ricordava prima, testimoniare questo. Dio è vicino ad ogni uomo e io te lo dimostro attraverso il mio essere qui accanto a te. Ringrazio tanto chi attraverso il docufilm rende possibile la divulgazione di questo messaggio. Grazie. Grazie. Un applauso. Grazie per il messaggio. Ecco, e allora da queste parole riprendiamo il nostro percorso. Abbiamo detto che il suore Maria Domenica è diventata, è stata beatificata da San Giovanni Paolo II nel 2003 e santificata lo scorso 15 maggio. E da qui allora chiederei a un altro ospite di prendere posto vicino a me, il dottor Adriano Tomba, segretario generale della Fondazione Cattolica Assicurazioni. Fondazione che ha dato impulso alla realizzazione di questo docufilm e a cui cedo la parola. Grazie, grazie. Buongiorno a tutti. Porto i saluti del presidente di Fondazione Cattolica, Paolo Bedoni. Guardate, il docufilm è una cosa veramente straordinaria perché ci permette di conoscere una persona di grande umiltà, di grande semplicità, come abbiamo detto, che ha dato vita però a delle opere davvero straordinarie. Allora, attraverso la vita e attraverso questo docufilm si raccontano tre secoli e vengono posti in rilievo dei valori significativi. E uso dei termini laici, l'altruismo, la cura, l'onestà, l'attenzione agli altri, la capacità di fare con quello che c'è senza lamentarsi di quello che manca, che è la traduzione laica, se ci pensate, di sussidiarietà, un termine che non siamo più abituati ad utilizzare, ma che è importante. Allora, guardate, si tratta di un docufilm che pone in evidenza attraverso una storia, tre secoli, una persona, delle opere, la consistenza dei valori che ci distinguono, che ci distinguono come comunità, che rendono più umano l'umano. Allora, questi valori sono il fondamento delle nostre comunità, della comunità nelle quali è bello vivere ed è, se ci pensate, rappresentano, se ci pensate, la risorsa alla quale attingiamo nei momenti di difficoltà. Provate a pensare che cosa c'era dietro gli sguardi delle persone che si sono presi cura dei nostri cari durante la pandemia. Di queste persone abbiamo visto solo gli occhi e, se permettete, abbiamo intuito la bellezza del cuore. Allora, Fondazione Cattolica Assicurazioni ha sostenuto questo docufilm non solo per ricordare una suora, una santa, non solo per ricordare un luogo, non solo per ricordare delle opere straordinarie. Per noi questo rappresenta un grande investimento sui valori che rendono più umano l'umano e sono valori universali che hanno tanto da dire non solo ai cattolici ma a tutti. Grazie. Grazie, grazie per la testimonianza e per concludere chiamo la Presidente della Proloco di Brenzone, Nadia Giramonti, con una riflessione legata proprio al saluto che abbiamo appena sentito. Il ruolo delle istituzioni sul territorio, il ruolo che anche le realtà private possono dare e come possono supportare il territorio. Le proloco sono, l'abbiamo detto prima con Nadia, il braccio operativo dei comuni. Ogni comune dovrebbe avere una propria proloco per poter fare promozione del territorio, dei prodotti del territorio e, come in questo caso, promuovere le ricchezze culturali del territorio. Quindi, Nadia, chiedo a te un saluto e un messaggio. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto è un onore essere qui in sala stampa del Consiglio regionale del Veneto, visto che sono venuta gran poche volte in regione e comunque sono contenta. Allora, vi faccio una breve storia, una breve cronologia di come siamo arrivati a questo punto qua. Allora, tutto è partito nel settembre del 2021, quando non sapevamo ancora quando diventava santa la madre, non si sapeva neanche ancora nulla. Eravamo un po' al buio. Ci siamo trovati varie associazioni del comune. Il comune, ovviamente, le piccole suore, il CTG, gli albergatori. Eravamo i volontari della Casa Natale, che ora è diventato un museo etnografico, che potete visitare tutti i giorni, aperto tutti i giorni, con vari orari. Comunque, se andate sul sito del nostro comune di Brenzone, trovate tutto quello che c'è scritto. E sì, ci siamo trovati che non sapevamo cosa fare, cosa facciamo, cosa non facciamo. Abbiamo buttato lì un'idea. Io e Davide abbiamo detto, ma scusate, facciamo un docufilm. Più bella la gente guarda i film, continua a guardare la tv, facciamo un docufilm. All'inizio eravamo un po' tutti così. Insomma, alla fine della fiera è venuto fuori che il docufilm, siamo qui, che lo stiamo presentando, è stato fatto. Io spero che, insomma, venga bene, ovviamente perché Quattrina è un bravo regista, e ovviamente andrà, che vada a colpire anche le persone, soprattutto quelli che non ci credono molto. Comunque speriamo che colpisca anche loro, perché una santa, io credo, non so se sbaglio, in tutto il lago di Garda non c'è. Pare, mi pare di capire. Ecco, allora, dal punto di vista promozionale, appunto, questo è un plus, oltre a tutto quello che abbiamo nel nostro comune, perché nel nostro comune, oltre ovviamente alla santa, ci sono varie attività da fare, soprattutto sportive. Diciamo che abitiamo anche in un paradiso, tra virgolette. Ecco, niente, è docufilm, spero che lo guardate e che vi piaccia molto. Ecco, vi aspetto tutti a Brenzone, appunto, anche il 6 agosto, scusate, che ci sarà una, diciamo, il cammino della santa, che partirà dalla casa madre fino al museo, e lì potete visitare tutti i luoghi appunto della madre. Grazie. Grazie, Nadia. E allora, dalle parole di Nadia, ora il momento clou di questa conferenza stampa. Vedremo insieme il trailer del docufilm che è in fase di produzione. E allora, semplice, la vita e le opere di Santa Maria Domenica Mantovani. Semplice, come l'acqua del lago. Semplice, come sui colli gli olivi. Semplice, come la fiamma di una candela. Così fu la vita, anzi, così è la vita, perché tutt'oggi le sue opere vivono. Disse, vivrò come una bambina abbandonata nelle mani di Dio, lasciando a lui la cura della mia santificazione e quella dell'intero istituto. Come una bambina, i suoi pensieri erano semplici ed innocenti, gioiosi e curiosi, e lo furono per tutta la sua vita. E da questa casa, dove nacque, quella bambina ha percorso il cammino della vita e della fede. Viveva come se ogni giorno fosse il presepe quotidiano della Sacra Famiglia, a cui si ispira tutt'oggi il suo ordine. L'istituto delle piccole suori della Sacra Famiglia. Nella sua vita semplice, Madre Maria non fu un esempio solo per chi ha fede e per i credenti. Le sue parole toccano il cuore e lasciano un'impronta a tutti, credenti e no. E lì sta la sua grandezza. Disse, fondamento alla santità è l'umiltà. Vuoi farti grande? Sii piccola. E questo vale per tutti. Sembra incredibile che una piccola donna, una piccola suora di un piccolo paese, senza quasi mai muoversi da esso, abbia potuto costruire grandi cose a favore dei poveri, degli orfani, dei derelitti, degli ammalati, portando speranza a tutti. Dall'Italia all'Albania, alla Svizzera, al Brasile, all'Argentina, al Paraguay, all'Uruguay, all'Angola, al Togo. Santa Maria Domenica Mantovani è la dimostrazione che ogni persona, che tutti noi, possiamo edificare grandi opere, nell'umiltà, nel silenzio, nella dignità della nostra cultura, grande o piccola che sia. Della sua vita, del suo pensiero, delle sue opere, tutto questo verrà raccontato nel film intitolato Semplice, del regista Mauro Vittorio Quattrina, ad onore e memoria di Santa Maria Domenica Mantovani. Bene, e allora sulle parole di questo trailer io chiederei anche alla stampa se ha qualche domanda da porre a chi ha partecipato oggi, ma magari chiederei anche a Suor Simona se ha così. Dal trailer si nota, io ho letto la storia e la vita di Suor Maria Domenica, e ci sono solo le immagini, immagino siano delle interviste, magari qui il regista può integrare, anzi Vittorio se vuoi avvicinarti, le interviste alle due ragazze che sono state miracolate da Suor Maria Domenica e per le quali appunto è diventata Santa Maria Domenica. Allora vorrei capire, queste ragazze avete avuto modo di ospitarle in istituto, le avete conosciute? Sono parte integrante del documentario all'interno, sì. Sì, quella che vediamo nella foto è Lara, la prima, adesso è una ragazza di 23 anni, era nata da poche ore quando è caduta dalle braccia della mamma che si è addormentata, quindi ha battuto la testa e la situazione era veramente tragica, disperata. Grazie all'intervento di una nostra suora ha posto una reliquia di madre Maria sulla testa della bambina e c'è stato immediato il fremito e quindi la bambina ha ripreso vita. Sappiamo che è Dio che opera prodigi, opera miracoli e si serve delle sue creature se questo è quello che vede bene. Quindi attraverso madre Maria sia Lara che Maria Candela, la seconda bambina, eccola qui, che già di su è affetta da una sindrome che noi chiamiamo della spina bifida, quindi la vediamo in carrozzina, ma in realtà il miracolo, la guarigione prodigiosa è avvenuta per un'emorragia cerebrale che vista la sua situazione compromessa assolutamente non si sarebbe potuta risolvere se non con un intervento altro rispetto alla medicina e questo intervento c'è stato. Sono venute entrambe a casa madre in occasione della canonizzazione. Lara è il miracolo che ha dato poi la possibilità alla beatificazione, che è il primo gradino. Poi Maria Candela è il miracolo che ha dato la possibilità della canonizzazione, quindi dell'essere dichiarata santa. Sono venute entrambe ed è difficile descrivere l'emozione loro e nostra nel vederle davanti all'urna di madre Maria. È difficilmente descrivibile, si palpava a pelle, soprattutto di Maria Candela. La sua emozione, più di una volta lei ha risposto perché a me, ha detto perché a me, perché a me lei è argentina, quindi sicuramente madre Maria sì, avrà sentito dire che esisteva l'argentina, ma niente di più. Eppure se io sono rimasta in vita, ci sarà un motivo e lo devo scoprire. Quindi sente che il suo essere, aver ricevuto questo dono così grande, è per lei anche un compito, una responsabilità. Ecco, e penso che queste ragazze hanno il compito di portare avanti il ricordo di Santa Maria Domenica, oltre che la testimonianza del miracolo che hanno avuto la grazia di avere. Vero Vittorio? Immagino che sia... Scusa, intervistandole ho notato questa semplicità. Cioè, vivono questo miracolo che hanno avuto con estrema semplicità. Si sentono persone, sia vero come ha detto Suor Simona, che si chiedono perché a me. Ma loro come Suor Maria sono semplici anche loro. Cioè, hanno mantenuto uno stato di vivibilità della cosa che è incredibile. Hanno la coscienza che su di loro è venuto qualcosa di eccezionale, perché i medici non si spiegavano come poteva capitare. Poi anche la madre ci ha spiegato che questa bambina era caduta per terra, la teneva in braccio, si è addormentata, la madre l'aveva partolita, è caduta per terra, ha preso una botta notevolissima nella testa. La credevano a morte tutte e due. E in realtà, appoggiando queste reliquie, sono ritornate in vita. I medici non si spiegavano. E io infatti l'ho chiesto a Lara Pascal, l'ho chiesto, ma tu come ti senti come persona che ha ricevuto un dono particolare? E lei mi ha risposto semplicemente. E sto bene. Quindi qui c'è tutto. E sto bene vuol dire che ha accettato questo ruolo che ha di testimonial, perché loro sono, in termini moderni, dei testimonial di fatti straordinari. Ecco, e allora, a chiusura di questa conferenza stampa, ti pongo una domanda. Quando sarà pronto il docofilm? Quando potremo vederlo? Allora, abbiamo avuto un po' di ritardi per via del Covid, ovviamente, nel fare le riprese. Dobbiamo girare ancora delle scene di fiction all'interno proprio della casa madre, dove è nata, che si vedeva in quelle fotografie, era nata lì. Pensiamo di prepararlo per i primi di novembre, concluso al Master, in modo tale che quando è il 160esimo anniversario della sua nascita, possiamo presentarlo, che è in novembre. Ecco, anche di proiezioni in qualche consolato italiano, in giro per il mondo, insomma, siamo molto soddisfatti di... sta girando, insomma, gira anche da morta, gira tanto. E allora, il messaggio di Santa Maria Domenica, che viaggerà attraverso questo documentario, questo docofilm, per tutta Italia, per tutto il mondo, portando il messaggio che mi pare sia centrato appieno nel titolo, no? Con semplicità, portare il dono di Dio e l'aiutare il prossimo nei nostri giovani, nella nostra popolazione. Con questo vi saluto, saluto tutti coloro che sono intervenuti oggi alla conferenza stampa, saluto voi che ci seguite in streaming da casa e vi do appuntamento alla prossima attività del Consiglio regionale del Veneto. Buona giornata.